ciao a tutti voglio condividere con voi questo articolo indicato su che puoi trovare su life gate daily life gate punto iti dove viene raccontato in maniera molto semplice e chiara che il fotovoltaico a livello mondiale sta crescendo oltre ogni più rosea previsione nel corso dell'anno 2024 perché questo beh innanzitutto bisogna dire che il l'esigenza di energia a livello mondiale come sai è in in costante aumento c'è sempre più necessità di energia soprattutto a livello industriale e soprattutto perché ci sono megalopoli che stanno aumentando sempre più a livello di popolazione pensiamo a paesi come come cina india e anche perché la nostra vita è sempre più dominata da device elettronici e da strumenti che comunque risultano essere energivori ma c'è una cosa positiva da constatare innanzitutto i paesi dove il fotovoltaico sta crescendo di più sono la top five del della crescita del fotovoltaico nel 2024 sono questi paesi qua cina stati uniti india germania e brasile la cina come al solito è il paese leader nella crescita energetica tramite il fotovoltaico perché è questo perché diversi studi hanno dimostrato che il fotovoltaico è la fonte di energia più economica ha superato il carbone e ovviamente io non posso che essere felice di questa buona notizia perché come sappiamo tutti il carbone è ampiamente cancerogeno mentre il fotovoltaico anche se c'è sempre una propaganda per trovarci mille difetti a quello non piace il modulo fotovoltaico sul tetto perché è esteticamente sgradevole però di fatto e sfido chiunque a controbattere non è morto mai nessuno a motivo di un impianto fotovoltaico almeno che il vento non abbia strappato i moduli e non gliele abbia fatti cascare disgraziatamente sulla testa ma il fotovoltaico a livello di conseguenze sull'ambiente non ha nessuna conseguenza negativa e concludo l'argomento quando acquistiamo dei nuovi moduli fotovoltaici per un nostro impianto paghiamo già il prezzo di quello che sarà il futuro il futuro riciclo di questo prodotto e anche nel nostro paese abbiamo già aziende che riciclano il fotovoltaico e tutti i suoi principali componenti che sono il silicio che è una specie di vetro che si può riciclare e l'alluminio che fa da cornice al modulo fotovoltaico stesso quindi da questo punto di vista possiamo stare molto tranquilli non so se avete notato che all'interno di questo interessante articolo non si fa alcuna menzione al nucleare io ovviamente di questo mi compiaccio perché è la dimostrazione che se gente pragmatica come la cina che non guarda in faccia a niente a nessuno e che non ha bisogno del consenso della popolazione per aprire nuove centrali nucleari punta così forte sul fotovoltaico perché economicamente è l'opzione migliore amici miei abbiamo l'abbiamo la madre delle risposte perché che senso a continuare a parlare di nucleare in italia e in europa quando i paesi più energivori del mondo quelli dove non c'è bisogno del consenso popolare per fare le cose come la cina stanno investendo pesantemente sul fotovoltaico perché è quello più conveniente dal punto di vista economico loro evidentemente non sono degli ambientalisti come me che si pongono il problema di quello che possa essere cancerogeno o del fatto che qualcuno si potrà ammalare a motivo di una centrale elettrica ok spero di averti trasmesso qualcosa di utile interessante ti incoraggio a iscriverti al mio canale condividere questo e gli altri video farmi domande scrivermi nei commenti se sei d'accordo o meno con le notizie che ti ho trasmesso e con le opinioni che ho aggiunto un saluto a tutti da marco fai alto esperto del fotovoltaico ciao ragazzi e buona giornata